La prima cosa, io immagino che stasera avremo modo anche i primi 40-45 minuti saranno di lecture, l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, proveremo a lasciarlo alle domande, immagino che avremo molti stimoli su cui approfondire o confrontarci. Allora, per fare ciò vi chiedo la cortesia di lasciare il box chat solo per eventuali questioni di ordine tecnico, mentre invece le domande rispetto ai contenuti della serata utilizzate il bottone DER, domanda risposta o Q&I per chi avesse la console in lingua inglese. Allora, io non rubo ulteriore tempo, lascio parola a Steve ringraziandolo nuovamente e auguro buona serata a tutti voi, ci rivediamo poi nel question time per quanto mi riguarda. Puoi lanciare le slide? Thank you, thank you Nicola. Grazie Nicola. Grazie intanto anche per l'invito e per questa presentazione che potrei condividere con voi relativa al pubblico. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 E quindi ecco perché oggi si parli di narcisismo, psicopatiologia e machiavellismo. E si parla anche del disturbo della disconnessione, i disturbi della disconnessione, perché una caratteristica fondamentale di questi disturbi è la disconnessione. Il fatto proprio di essere completamente separati dalle altre persone, il senso di essere quasi come se siamo intrappolati dentro noi stessi senza alcuna capacità di riuscire a condividere emozioni con le altre persone, oppure addirittura senza la capacità di riuscire a valutare e vedere come le altre persone si sentono, quindi in uno stato di disconnessione estrema. Mi riferisco alle persone che hanno questi tratti come persone iperdisconnesse. La maggior parte degli esseri umani in un certo senso può esperire una forma di disconnessione, quindi vivere nel nostro spazio mentale quando pensiamo che il resto nel mondo sia proprio lì fuori, ma noi ci sentiamo dentro, dentro questo stato mentale nostro. Queste persone però con tratti narcisistici e psicopatici sono molto più disconnessi del normale, ecco perché le definiamo persone iperdisconnesse. Però proviamo a tornare a un esperimento, quello che volevo fare con voi, quindi immaginate di essere questa persona che non empatizza, che ha un forte desiderio di potere, di prestigio, si sente superiore, non ha alcun senso di colpa, non prova vergogna, non prova imbarazzo. Provate a immaginare di avere 17 anni e andate da un consulente del lavoro magari a cui potete accedere nella vostra università e questa persona vi può consigliare la professione ideale, la migliore per voi. Potrebbe farvi fare un test di personalità, questo consulente potrebbe descrivervi come narcisistico o come psicopatico e quindi come carriera, come profilo professionale. Che cosa potrebbe mai suggerirvi? Ecco, forse potrebbe suggerire una vita da criminale, ecco, se mai un consulente potesse suggerire una cosa simile. E c'è una forte associazione infatti tra il reato e la mancanza di empatia e anche una correlazione tra reato e tratti psicopatici. Ovviamente ci sono tanti tipi diversi di reato, ma soprattutto quei reati che coinvolgono un danno diretto perpetrato ad un altro soggetto e ovviamente per poter infliggere un danno ad un altro essere umano ci deve essere una mancanza di empatia, perché se non si riesce ad empatizzare, si riesce proprio a far male. Se non si sente empatia, se non si prova empatia, ci si sente liberi di poter commettere qualunque tipo di reato. E c'è una ricerca di un'associazione che mostra proprio questa correlazione tra la psicopatia e il reato. Sono stati fatti degli studi sulla popolazione carceraria che hanno dimostrato che vi è un 15 fino al 25% di popolazione carceraria con tendenze psicopatiche che sono particolarmente legate anche a un livello di riabilitazione molto basso, quindi per esempio la scarcerazione anticipata. E il livello proprio più basso di riabilitazione, questa correlazione, in qualche modo è legato al fatto che la riabilitazione ruoti attorno all'empatia. Nel Regno Unito c'era un programma che si chiama Restorative Justice, che so che esiste anche in altri paesi, che si basa su un principio cardine, ossia creare una connessione empatica tra la vittima del reato e il carnefice. Quindi se un carnefice riesce a empatizzare con la vittima, ecco che molto più probabilmente continuerà a mettere in atto quel comportamento. E questo ha senso perché, come dicevo, in qualche modo l'empatia fa sì che non si riesca a fare del male a delle altre persone. Ma quindi perché alcuni psicopatici vengono scarcerati anticipatamente? Credo che coloro che hanno tendenze psicopatiche, hanno una sorta di fascino, una sorta di carisma, di appeal, di attrazione, questa personalità che attrae le altre persone perché riescono a parlare e convincere le altre persone molto facilmente rispetto alla loro necessità di essere scarcerati preventivamente. Un'altra professione che magari questo consulente del lavoro avrebbe potuto consigliare è una carriera menageriale, magari a un alto inquadramento all'interno di una multinazionale o di una grande azienda. Il 4% fino al 12% degli amministratori delegati hanno tratti psicopatici. Credo che questo sia una percentuale molto più elevata rispetto alla popolazione generale. e questo ha senso perché se ci sono dei tratti di questo tipo, se non vi dispiace marrecare danno anche finanziario emotivo ad altre persone, se siete senza scrupoli, ecco questo come manager è sicuramente un vantaggio perché vi permette di manipolare le persone, di sfruttare altre persone, e vi permette anche di riuscire ad arrivare molto rapidamente ai vertici della gerarchia finanziaria o aziendale. Quindi è facile riuscire ad arrivare a posizioni di amministratore delegato. Sicuramente una qualità dell'essere senza scrupoli per loro è un vantaggio e in una certa misura ci mostra che stiamo vivendo in questo tipo di società perché questi tratti diventano valori perché le nostre società sono società senza scrupoli, società molto competitive, società che non sono egualitarie, non sono empatiche. Se lo fossero invece morali, empatiche, ecco che queste qualità non verrebbero considerate come dei valori, ma al contrario. Devo dire però che esiste una terza opzione di carriera professionale per quella persona che stavamo immaginando di essere con tratti psicopatici. Qual è questa terza opzione? Ecco il mondo politico, l'ambito, la sfera politica. E se considerate che uno dei tratti prioritari di persone affette dal disturbo della disconnessione, ecco uno dei tratti prevalenti è il desiderio di potere, di raggiungere prestigio e ha molto senso, quindi il fatto che siano attratti da questo mondo della politica e questo ci porta a un concetto, quello della patocrazia. ci sono tanti sistemi politici che sono stati identificati da storici, da politici, da sociologi, quindi uno di questi è la democrazia, quindi il governo in mano alle persone, l'aristocrazia che è guidata da un'elite, governata da un'elite, l'oligarchia, la monarchia. Ecco, la patocrazia è un'altra forma, un'altra forma di governo. La patocrazia è direi forse uno dei sistemi politici più comuni che sia mai esistito e che esiste ancora oggi nel mondo e probabilmente si tratta di uno dei problemi più grandi che la storia abbia mai dovuto testimoniare perché la patocrazia è sempre esistita, è sempre stata fonte di tanti problemi, di brutalità, di sofferenze e sfortunatamente è ancora comune oggi in molti paesi del mondo. Ecco, vorrei proprio parlarvi di questo concetto, del concetto della patocrazia. Il concetto di patocrazia deriva da uno psicologo polacco, Andrew Lobaseski, nato nel 1921 e potete vedere qui l'immagine del suo libro. Credo che ne abbia pubblicato solo uno. In inglese era la political ponerology, la ponerologia politica, traduzione italiana. L'edizione inglese è stata pubblicata negli anni 80, era nato in Polonia e Lobaseski è cresciuto sotto regime nazista, con l'occupazione nazista in Polonia e poi nel secondo dopoguerra c'è stata in Polonia l'occupazione sovietica con Stalin, il regime comunista e Lobaseski ha quindi proprio sofferto questo regime guidato da persone con tratti psicopatici e voleva riuscire a capire perché i governi come quello della Russia, della Polonia, della Germania ecco perché questi governi erano composti da persone con tendenze psicopatiche perché voleva capire perché gli psicopatici sono così attratti dal potere questo numero enorme di persone che rappresentavano il potere politico del paese voleva riuscire anche a capire il perché la patologia di una minoranza di persone potesse riuscire a prendere il sopravvento all'interno di un paese e potesse diffondersi in tutta la popolazione del paese e nella slide, proprio quella che state vedendo in questo momento definisce la patocrazia un sistema governativo in cui un'esigua minoranza patologica prende il controllo e il sopravvento su una società di persone normali e dice anche se un individuo in una posizione di potere politica è uno psicopatico può creare un'epidemia di psicopatologie nelle persone che non sono essenzialmente psicopatiche quindi questo esempio di nazismo è iniziato sicuramente con una persona psicopatica Hitler che poi ha attratto a sé altri psicopatici e anche in Germania le persone sono rimaste attratte da Hitler per il suo carisma non tanto per la sua ideologia e quando poi sono riusciti a prendere il sopravvendo ecco quando la patocrazia è stata stabilita si è diffusa in tutta la popolazione in diverse misure quindi essere psicologo in Polonia come Lobaseski era era sicuramente una professione pericolosa credo che questo valga per tutti i governi dove esiste una patocrazia dove le professioni devono servire il governo gli esperti devono fornire le loro conoscenze per sostenere la propaganda politica e Lobaseski sicuramente non voleva fare questo per questo che ha analizzato il problema della patocrazia è stato perseguito, arrestato, torturato dalle autorità e successivamente si trasferì in America dove effettivamente poi nel 1980 venne pubblicato il suo unico libro come dicevo quindi la patocrazia è il problema più grave nella storia della razza umana ci sono stati governi con forti psicopatici con tratti narcisistici con questi tratti che abbiamo descritto fino ad ora e in particolar modo il ventesimo secolo ha raggiunto l'apice direi della patocrazia è stato un secolo tra i più oscuri della nostra storia in cui veramente la patocrazia ha preso il sopravvento ovunque in tutto il mondo e vorrei approfittare per raccontarvi un po' le fasi che sono state citate da Lobaseski per capire come hanno preso piede nel mondo l'epatocrazia iniziamo con un leader psicopatico che emerge con un desiderio fanatico di potere che attira seguaci nella classe politica e tra la popolazione in generale quindi tutto inizia sempre con un individuo che possa essere leader pure Franco pure in Italia Mussolini ecco inizia con una persona con un leader con questo desiderio fanatico di potere una persona carismatica che attira seguaci facilmente e quando poi raggiunge questo potere ecco che tutte le persone si avvicinano a lui perché le attira e quando il gruppo di queste persone psicopatiche si raggruppano al potere ecco che tutte le persone invece con una morale si allontanano quindi si allontanano da questa immoralità del governo e in alcuni casi vengono perfine respinte espulse torturate uccise dal governo e in questo modo tutti gli altri psicopatici emergono non solo a livello politico ma in tutti gli altri ambiti in tutte le altre sfere perché tutti vengono attirati da questa forma di patocrazia e in questo modo quindi la patocrazia diventa più forte si consolida e lo possiamo vedere come è successo negli ultimi quattro anni in America sicuramente la presidenza di Donald Trump si è trasformata in una patocrazia all'inizio c'erano delle persone morali e responsabili che si consideravano le persone adulte nelle decisioni che dovevano prendere i funzionari che poi però man mano hanno abbandonato hanno lasciato i loro ruoli sono stati sostituiti da persone meno morali e gradualmente la patocrazia quindi si è consolidata ancora di più con forme ancora più estreme e poi lo terzo stadio è il momento in cui la patologia si diffonde a tutta la popolazione normale come è successo in Germania sotto regime di Hitler in Spagna con il regime di Franco con Mussolini in Italia è una sorta di senso tossico di unità nazionale e quindi c'è un'ideologia molto semplice ma che spinge su questo futuro brillante che è alla portata di mano e i nemici che possono impedire il raggiungimento di questo futuro rosio quindi tutto inizia sempre su un'ideologia che punta su un futuro rosio che è vicino che bisogna riuscire a raggiungere ovviamente le persone sono attratte da questi leader da queste forme da questi uomini di ferro carismatici che puntano all'unità all'unità del paese con obiettivi e ideologie molto semplicistiche con questa sensazione pervasiva di unità nazionalista ovviamente il governo utilizza la propaganda quindi prende sopravvento anche su tutti i mass media per riuscire a far sì che anche essi possano proporre e supportare la loro ideologia poi con il tempo il regime diventa sempre più psicopatico più brutale l'opposizione viene eliminata in tutti i modi possibili i diritti civili a mano a mano scompaiono e c'è un'agenda nazionalista sempre con l'obiettivo di avere un prestigio nazionale un potere nazionale tramite la guerra perché la guerra è l'unico mezzo che permette di espandere questo potere e di raggiungere un maggiore prestigio quindi i tratti psicopatici diventano sempre più estremi e questo è il motivo anche per cui secondo Leibazeschi il regime patocratico poi fallisce alla fine perché la patologia non è condivisa dalla maggior parte dalla maggioranza delle persone la maggioranza delle persone normali non ha tendenze psicopatiche non ha tratti narcisistici e quindi alla fine e soprattutto quando la patocrazia diventa ancora più estrema si crolla perché queste persone non supportano più la patocrazia soprattutto quando la patocrazia dopo un certo periodo di tempo cerca di raggiungere in modo troppo affannato questo potere questo prestigio che porta poi a un fallimento perché si esaspera questo fenomeno e quindi le persone con questi tratti in un qualche modo poi crollano in una sorta di autodelusione questa loro autodelusione che mina il successo che hanno cercato di costruire che lo fa crollare e quindi porta ad un fallimento come dicevo quindi il ventesimo secolo potrebbe essere proprio definito il secolo della patocrazia tanti storici hanno studiato questo secolo definendolo poi l'apice della patocrazia nel corso della storia della nostra umanità ovviamente nel ventesimo secolo la patocrazia è diventata davvero molto estrema molto più che in altri secoli qui appunto vedete alcuni di dittatori più estremi del ventesimo secolo sicuramente non è necessario per me indicarvi singoli nomi sicuramente riconoscete Stalin Hitler forse la persona che non riconoscete è Amin dell'Uganda poi c'è Mussolini Mao e Franco dalla Spagna beh la cosa interessante qui quando pensiamo a queste persone e questo si applica in realtà a tutti i dittatori a tutti i leader psicopatici beh loro condividono un background molto simile spesso infatti vengono da background molto umili spesso derivano quindi da dei background molto poveri e spesso vengono anche da ambienti emotivamente deprivanti cioè da famiglie dove vi era molta violenza molte di queste persone ad esempio avevano dei padri alcolisti violenti e quindi la loro psicopatologia è proprio collegata a questa deprivazione vissuta durante l'infanzia e questi sono è semplicemente una parte di quelli che sono i dittatori patocratici del ventesimo secolo nel Sud America ad esempio nel 1977 una grande maggior parte dei paesi del Sud America era caratterizzato da dittature 17 su 20 in realtà e quindi vedete la presenza della patocrazia è la stessa cosa anche per il continente africano molti paesi africani infatti sono diventati delle patocrazie e la patocrazia invece nel ventunesimo secolo beh proviamo a guardare beh la patocrazia è ancora comune queste sono alcune delle figure dei personaggi che potrete conoscere Berlusconi il presidente Putin Donald Trump e Boris Johnson il presidente del mio paese del Regno Unito beh forse c'è stato un piccolo cambiamento nel ventunesimo secolo un passaggio da leader con forti tratti psicopatici a leader con dei tratti predominariamente narcisistici ad esempio Boris Johnson secondo me non ha dei forti tratti psicopatici ma ha dei forti tratti narcisistici probabilmente lo stesso vale per Berlusconi quindi sono delle persone che più di tutto vogliono il prestigio vogliono l'attenzione vogliono l'ammirazione non sono quindi delle persone particolarmente violente non sono dei leader molto violenti possono diventare violenti in alcune circostanze ma i tratti principali sono proprio narcisistici e se magari pensiamo al presidente della Cina se vediamo cosa sta succedendo nel Myanmar beh è molto chiaro il fatto che la patrocrazia sia ancora una forma di governo ben presente in tutto il mondo e come vi ho detto è interessante notare che i leader con dei tratti psicopatici i patocrati per così dire hanno dei profili di personalità molto simili spesso hanno dei background simili delle origini simili come abbiamo detto spesso hanno delle origini molto umili delle famiglie in cui l'infanzia aveva una deprivazione emotiva come caratteristica principale quindi sono delle persone molto simili e seguono degli approcci politici molto simili vorrei fare con voi il gioco della grandiosità se posso così facciamo un po' di interazione in questa presentazione mica che magari non riuscite più a stare attenti dopo tutti questi minuti quindi vorrei proprio tenervi proprio sull'attenti sulle spine qui vedete quattro leader nazionali quattro patocrati come li chiamiamo noi dovete provare a collegare la frase con la persona giusta abbiamo Trump se non lo riconoscete Berlusconi li abbiamo già visti il gentiluomo in alto a sinistra è Caligola che era appunto aveva una personalità molto disturbata quindi forti tratti psicopatici e poi abbiamo Gheddafi della Libia anche lui un leader con dei forti tratti legati proprio alla triade oscura e quindi provate a collegare queste affermazioni con la persona giusta quale patocrate ha detto questa affermazione la prima credo che non ci sia nessuno nella storia rispetto al quale mi dovrei sentire inferiore tutto il contrario provate a scrivere prendere un appunto secondo voi chi ha fatto questa affermazione potete scriverlo anche nella chat se volete la seconda frase penso che l'unica differenza tra me e gli altri candidati è che io sono più onesto e che le mie donne sono più belle se volete un appunto oppure scrivete nella chat terza citazione non mi importa se mi rispettano finché o fin tanto che mi temono e l'ultima affermazione chi non mi ama non merita di vivere bene adesso vi do le risposte la prima quindi credo che non ci sia nessuno nella storia per il quale mi devo sentire inferiore in realtà è stata detta da Berlusconi avrebbe potuto essere anche Donald Trump ci sono molte similitudini tra Berlusconi e Donald Trump anche il fatto che entrambi erano degli uomini di successo uomini d'affari di grande successo prima di entrare in politica e quindi questo ci spiega anche la loro personalità narcisistica anche la loro politica in linea politica era molto simile se ci pensate la seconda quindi penso che l'unica differenza tra me e gli altri candidati è che io sono più onesto e che le mie donne sono più belle e questa è stata in realtà un'affermazione di Donald Trump ma potrebbe appartenere tranquillamente anche a Berlusconi come abbiamo detto hanno dei tratti molto simili la terza non mi importa se mi rispettano finché mi temono e questa è una citazione di Calligola e ovviamente ci sono stati tanti imperatori romani che avevano dei tratti molto forti significativi legati alla triade oscura c'erano alcuni imperatori romani che erano in realtà responsabili anche persone morali ma erano diciamo rari come Marco Aurelio ad esempio e l'ultima affermazione chi non mi ama non merita di vivere beh ovviamente questa è l'affermazione di Gheddafi stiamo ovviamente parlando di persone molto disturbate e come ho detto prima è interessante notare il fatto che i leader patocratici e i loro regimi sono spesso molto simili hanno delle origini di background molto simili hanno dei tratti di personalità simili ovviamente e anche la loro politica le loro linee politiche sono simili ma questi leader non hanno delle ideologie molto definite non hanno delle filosofie da perseguire non hanno dei principi hanno solo degli impulsi hanno l'impulso ad ottenere potere prestigio hanno questo impulso maligno di ferire gli altri in qualche modo ed è quello che definisce la loro politica non voglio entrare troppo nel dettaglio di questo slide perché mi sa che abbiamo quasi finito il nostro tempo ma comunque questi leader sono spesso legati a dei regimi nazionalisti vogliono spesso aumentare il potere e il prestigio nazionale e questo è semplicemente un'estensione dei loro impulsi quindi hanno l'impulso personale ad aumentare il loro potere il loro prestigio e questo semplicemente viene espresso nelle loro politiche sono anche legati all'isolazionismo quindi si ritirano dagli accordi internazionali a volte quindi danno il via ad alcune guerre e questa è l'espressione della loro grandiosità del loro ego perché si sentono superiori agli altri paesi alle altre persone e questo quindi diventa un tratto distintivo della loro politica quindi il loro senso di grandiosità viene espresso nella loro politica e nel loro ruolo nella nazione perseguono anche delle politiche di linea dura quindi punizioni severe per i criminali per l'immigrazione e questo è l'espressione della loro malignità cioè del loro desiderio di fare del male alle altre persone e anche un'espressione della loro mascolinità infatti i leader patocratici hanno sempre una forte enfasi sulla mascolinità sentono quindi che le emozioni sono deboli pensano che l'empatia e la compassione siano un punto di debolezza e quindi cercano fortemente di non mostrare nessun segno di queste emozioni quindi non le hanno in realtà queste emozioni quindi è semplice per loro non mostrarle però se vedono che ci sono delle emozioni negli altri cercano di ridicolizzarle e di svalutare qualsiasi emozione qualsiasi segno di morbidità o di morbidezza scusatemi di attenzione e di empatia i sistemi patriarcici di solito sono patriarcali perché? perché i valori maschili sono fortemente enfatizzati e sono anche distruttivi se ci pensate perché hanno un impulso distruttivo a creare caos conflitto e danni anche i danni ambientali penso che questo fosse evidente nella politica di Donald Trump infatti aveva questo desiderio quasi perverso di infliggere un danno di infliggere danni di non proteggere l'ambiente quindi di smantellare qualsiasi regolamento che cercasse di proteggere l'ambiente che fosse rivolto alla protezione ambientale quindi alla fine queste persone hanno questo impulso molto forte alla distruzione ed è una cosa che fanno anche nella loro vita Stalin, Mao ad esempio hanno ucciso milioni di persone che facevano parte della loro popolazione perché hanno questo impulso proprio legato all'uccidere gli altri che fa parte della loro vita questo impulso omicida spesso queste persone comunque vengono diciamo arrivano al fallimento a causa di un autodelirio del delirio del sé dell'incompetenza perché questo va ad influire sulla loro capacità di prendere delle giuste decisioni il fatto che si abbia un forte desiderio di potere non vuol dire essere dei leader competenti anzi molto spesso vuol dire il contrario infatti questi leader spesso vengono distrutti dalla loro stessa incompetenza per concludere di che cosa stiamo parlando adesso stiamo parlando proprio di un mix letale stiamo parlando di un forte desiderio di potere di prestigio unito unito ad un'assenza di empatia una mancanza di empatia e come vi ho detto questi sono i tratti essenziali delle persone che hanno i disturbi della disconnessione che hanno dei tratti psicopatici narcisistici quindi questi due aspetti il desiderio di potere di prestigio con una mancanza di empatia su una base individuale creano situazioni di criminalità di violenza di sfruttamento ma su una base collettiva soprattutto quando si uniscono molte di queste persone quando formano un governo insieme allora in questo caso si generano le patocrazie la guerra le persecuzioni la distruzione e quindi come vi ho detto già prima credo che questo sia uno dei problemi più seri della storia dell'umanità infatti molte persone nella storia dell'umanità hanno sofferto a causa di questi piccoli gruppi di persone con dei tratti gravi legati proprio al narcisismo e alla psicopatia quando questi individui arrivavano al potere magari avete sentito parlare di questo storico britannico e politico britannico lord acton che ha dichiarato che il potere corrompe e il potere assoluto porta corruzione assoluta e penso che sia davvero la verità perché anche le persone che sono già psicopatici e narcisisti all'inizio diventano ancora più narcisisti e ancora più psicopatici una volta giunti al potere e quindi non c'è nessun dubbio che il potere porti alla corruzione quindi non per forza le persone narcisistiche psicopatiche sono corrotte all'inizio ma diventano ancora più corrotte quando arrivano al potere ma comunque ha dichiarato questo storico sempre che non è il potere che corrompe ma il potere attrae le persone che sono già corrotte e che diventano ancora più corrotte una volta che sono al potere ed è proprio questo che è legato alla triade oscura e quindi il potere porta ancora più corruzione e quindi come ho detto questo penso che sia uno dei poteri e dei problemi scusatemi più serio che abbiamo nella nostra storia nella storia dell'umanità e credo che forse dovremmo agire contro questo potere e questo problema e credo che adesso vi lascerò la parola vediamo se ci sono delle domande potete porvi queste domande che vi ho scritto nella slide sono delle domande che potete usare per riflettere o magari volete fare dei commenti su queste domande o ci sono altre domande comunque una domanda la democrazia può essere rafforzata per ridurre la possibilità di una patocrazia oppure la democrazia può proteggere dalla patocrazia come si può regolare il raggiungimento al potere e un altro potere è un problema ancora più grande come possono le persone che hanno empatia e coscienza essere incoraggiate ad arrivare al potere perché molto spesso persone che hanno una coscienza e l'empatia non sono interessate a questi ruoli non vogliono diventare dei politici e quindi ovviamente sarebbe meglio se queste persone in realtà potessero assumere delle posizioni di potere e quindi come possiamo davvero incentivarli ad assumere queste posizioni di potere queste sono alcune delle domande che volevo condividere con voi ma vediamo se ce ne sono altre grazie grazie a te Steve in poco tempo sei riuscito veramente a dare suggestioni interessantissime e credo che ciascuno di noi riesce benissimo ad ancorare a molti più personaggi dei giorni nostri sono arrivate molte domande anche molto molto interessanti quindi se per te va bene possiamo procedere magari andiamo veloci sulle risposte per quanto possibile così da ospitarne un numero maggiore allora la collega Aurora chiede se dal tuo punto di vista esiste un legame tra queste ricerche sulla patocrazia e quelle di Milgram o di Zimbardo ad esempio sull'effetto lucifero sì sembra esserci un collegamento e cioè la patocrazia si diffonde ad esempio come abbiamo visto nella popolazione tedesca Lebeschersky infatti ha detto che la maggior parte delle persone non hanno tendenze psicopatiche ma possono comunque essere per così dire infettate dalla psicopatologia del governo attraverso la propaganda oppure attraverso l'intossicazione per così dire che si crea quando si genera un movimento di massa quindi sì è possibile che ci sia un legame ma allo stesso modo dobbiamo ricordarci che anche Lebeschersky era d'accordo sul fatto che la maggior parte delle persone non è psicopatica la maggior parte delle persone ha una morale cioè una piccola minoranza che in realtà non ha una morale e che ha una tendenza psicopatica quindi in ultimo possiamo dire che la patocrazia di solito non riesce ad andare avanti perché è qualcosa di anomalo perché la maggior parte delle persone ha una morale e quindi vede la patocrazia come amorale ok andiamo veloci ma in tutela di Roberta e Laura che sono bravissime a tradurre ma c'è stata un'accelerazione nel momento in cui ho ho tremato quindi allora c'è Franca ma anche un'altra collega hanno giustamente notato che tutti i personaggi rappresentati sono uomini quindi la patocrazia colpisce solo noi uomini ci sono esempi se non di politica comunque in generale di posizioni di potere anche da parte di donne e nel caso perché sì sicuramente è più comune proprio nella popolazione maschile i psicologi stimano che la psicopatia sia tre volte più comune negli uomini rispetto che nelle donne e quindi ovviamente ci sono delle donne che hanno delle tendenze psicopatiche ma non così tante e quindi non è così comune nella popolazione femminile come in quella maschile ed è vero infatti che non ci sono molti leader patocratici femminili forse avete sentito parlare di Margaret Thatcher sicuramente lei aveva poca empatia poca compassione una persona molto dominante probabilmente lei aveva delle tendenze psicopatiche narcisistiche ma non è molto comune probabilmente perché quando le società sono dominate dalle patocrazie sono allo stesso tempo molto maschili sono molto patriarcali queste società e quindi ci sono poche opportunità per le donne quindi non ci sono grandi opportunità per le donne di ascendere ad una posizione di potere proprio per questa struttura patriarcale ok che in Italia insomma più o meno ne abbiamo conoscenza e allora Alfredo chiede queste persone questi personaggi patocratici possono essere in una qualche misura considerate personalità istrioniche parla in particolar modo si riferisce ai leader del ventunesimo secolo in un certo senso sì tutti questi termini personalità istrionica antisociale narcisistica psicopatica si sovrappongono in qualche modo perché tutti i disturbi di personalità sono interconnessi è molto difficile separare così chirurgicamente questi disturbi per quello che abbiamo il concetto della triade oscura perché molti tratti si sovrappongono sicuramente però ci sono dei segni di comportamento istrionico e come ho detto anche nel nel mio speech ci sono molti segni di narcisismo sicuramente il narcisismo è presente in questi leader i leader del momento infatti sono proprio caratterizzati da un profondo narcisismo forse perché hanno la pressione dei social media hanno un'attenzione costante proprio anche da parte dei social media e quindi è più difficile essere un politico adesso rispetto che nella storia perché c'è una pressione costante proprio dovuta ai mass media e quindi questa pressione delle persone che ti commentano che ti criticano perciò bisogna avere un forte desiderio di attenzione e di ammirazione per voler in realtà essere un politico proprio in questo momento certo Caterina ci pone una domanda che tu hai anche trattato nell'articolo appunto pubblicato su Psychology Today chiede come possiamo riconoscere questi leader potenzialmente patologici nelle fasi iniziali della loro carriera in altre parole prima che mietano vittime e combinino guai ottima domanda è quello che dobbiamo cercare di fare dobbiamo riconoscere queste persone a volte durante l'infanzia ci sono delle situazioni le persone con questi tratti di solito durante l'infanzia sono fredde e violente sono abbastanza crudeli nei confronti degli animali hanno delle tendenze sadiche che li portano ad essere crudeli nei confronti degli animali ma queste persone come vi ho già detto spesso hanno un un forte carisma e quindi è molto è molto facile essere coinvolti da queste persone se pensiamo a una persona molto carismatica e con molto charm forse quello potrebbe essere un tratto da tenere in considerazione un segno da tenere in considerazione se c'è una mancanza di empatia questo è un altro fattore da tenere in considerazione perché queste figure queste persone non hanno empatia quindi se ci sono persone che soffrono che sono tristi che sono depresse e queste persone provano indifferenza nei confronti di questa sofferenza allora questo è un forte segno da tenere in considerazione quindi segni di crudeltà segnali legati ad un forte carisma ad un forte fascino e segni di non essere in grado di provare empatia anche durante l'infanzia ed è questo a cui dobbiamo prestare attenzione ok allora il collega Umberto Parisella ti chiede Steve se a tuo avviso il mondo sta precipitando pericolosamente verso nuove forme di patocrazia o se questa è da considerare semplicemente uno strascico o un residuo del passato penso che stia cambiando la situazione forse in Europa quantomeno c'è stato un cambiamento verso un tipo di patocrazia più narcisistica sicuramente per alcuni leader questa è la verità quindi quando i leader arrivano al potere ci sono altre persone con dei tratti legati alla triade oscura che vengono attratti al potere questa è una cosa ad esempio che è successa nel Regno Unito di sicuro Boris Johnson infatti è una persona con dei tratti narcisistici ed è riuscito ad attrarre molte persone senza scrupoli narcisiste che hanno poca empatia che hanno una grande freddezza ma penso che anche negli altri posti del mondo la patocrazia inizi ad avere una forma simile ad esempio in Cina in Africa ha la stessa forma magari alcuni paesi del Sud America hanno ancora la stessa forma di patocrazia e cioè questa patocrazia è ancora una forma psicopatica crudele di governo in altri stati invece ha assunto la patocrazia una forma meno brutale più narcisistica è quello che vediamo qua in Europa mentre in altre parti del mondo la patocrazia ha ancora questo aspetto così brutale e psicopatico allora Steve ci sono alcuni commenti che chiedono riguardo al ruolo del web e qui ne approfitto per aprire una parentesi velocissima mi permetto perché sono veramente interessato e approfitto dell'opportunità di confrontarmi con te qui in Italia ultimamente abbiamo assistito a delle polarizzazioni a una semantica particolare abbiamo attraversato il periodo dei rottamatori e quindi giovani contro vecchi abbiamo attraversato il periodo del va a quel paese quindi buoni contro cattivi e poi siamo arrivati anche a quello più recente degli italiani contro i non italiani quindi abbiamo continuamente assistito da parte di questi leader influencer a polarizzazioni banali e ingenue a categorie fragili dico io allora il web da questo punto di vista che è un luogo di polarizzazione proprio per gli algoritmi il social web perlomeno le persone vengono in contatto con ciò che interessa e quindi si creano proprio delle situazioni estremamente cristallizzate e polarizzate il ventunesimo secolo ecco quando la patocrazia entra in contatto con il social web quando si il leviatano influencer cosa io vedo veramente un crinale molto scivoloso sono d'accordo ed è molto disturbante se ci pensate credo che soprattutto nella presidenza di Donald Trump i social media hanno avuto un ruolo cruciale i social media consentono alle patocrazie di infettare il resto della popolazione Lobachevsky parlava proprio di questo cioè quanto è importante il fatto che la patocrazia finisce per diffondersi in tutta la popolazione e questo è successo moltissimo nel caso di Donald Trump attraverso i social media e quindi per le patocrazie i social media hanno un grande beneficio e quindi sono molto pericolosi i social media perché è un canale diretto con le persone con la mente delle persone quindi questi canali possono essere riempiti di propaganda cospirazione e come ho detto prima uno dei tratti standard della patocrazia è quello di creare proprio dei nemici quindi abbiamo un grande futuro di fronte a noi abbiamo dei nemici che vogliono impedirci questo futuro e quindi il nemico dipende dalla propaganda quindi si creano i nemici attraverso la propaganda e i social media sono ovviamente una modalità molto efficace per diffondere cospirazione menzogne legate proprio a questi nemici immaginari eh sì Eleonora penso che colga che ha colto un po' un aspetto di cui parlavi proprio adesso dice vorrei sapere se è già stato trovato un legame tra patocrazia e governi di stampo populista Eleonora infatti parla ad esempio di ricerche del nemico esterno soluzioni semplici ideologie deboli come anche le polarizzazioni di cui si parlava prima sì sicuramente sì la patocrazia infatti è sempre legata ai governi populisti perché la realtà è sempre complicata pensateci la politica è sempre complicata la società è ovviamente una struttura molto complicata ci sono molti aspetti così tante prospettive e punti di vista che devono essere tenuti in considerazione ed è questo il motivo per cui le patocrazie hanno così tanto fascino perché cercano di rendere la vita più semplice riducono la realtà ad una forma molto semplicissima e questo attrae le persone se provate a pensare che c'è un grande futuro di fronte a noi c'è solo un ostacolo in fronte a noi rispetto a quel futuro che sia una minoranza etnica che sia qualcos'altro che siano gli immigrati qualcuno che causa problemi quindi abbiamo un obiettivo molto semplice è visibile lì in fronte a noi ma nella realtà è molto difficile vedere un obiettivo specifico per quanto riguarda la politica o la società nel suo insieme e quindi la politica cerca di rendere sempre la realtà molto semplice cercano di ridurre la realtà ad un duplicato semplicistico di quello che in realtà è e quindi i governi patocratici hanno sempre avuto grandi seguaci tra le persone meno colte perché le persone più istruite sono più difficili da convincere ovviamente cercano di convincere con delle ideologie semplici le persone meno colte quelle persone che magari non hanno a disposizione tante informazioni e cercano di sfruttare proprio questa parte della popolazione i governi cercano di sfruttare questa mancanza di educazione e di istruzione eh sì anche qui potremmo scriverci un libro un case history rispetto alle politiche italiane e su una popolazione mediamente anziana e poco istruita allora ci chiedono siamo giunti al termine di questo webinar ci chiedono diversi commenti sono tantissimi ci spiace non poterli prendere in carico tutti se hai qualche autore oltre a cercare appunto patocracy steve taylor su google e troverete diverso materiale se hai anche qualche altro autore libri o citazioni insomma da poter approfondire sì ho scritto diversi articoli per psychology today proprio sulle patocazie anche c'è il libro di andrew lobaceschi è la ponerologia politica è una lettura molto densa molto intensa ma comunque è molto interessante c'è anche un libro di Ian Hughes irlandese Disordered Minds è il nome del libro e anche il libro tratta delle patocrazie magari ve lo scrivo nella chat che ne dite mi sembra un'ottima idea ti ringraziamo steve l'ultima domanda con cui chiudiamo dal tuo punto di vista lo psicologo la nostra comunità professionale può avere una funzione rispetto al disinnescare patocrazia all'interno della società e del bene comune assolutamente sì io credo che ogni candidato al potere politico dovrebbe essere rigorosamente valutato da noi professionisti non solo con dei test di personalità perché i test di personalità non sono molto affidabili le persone possono manipolare questi test in modo molto semplice e gli psicopatici sono molto bravi nella manipolazione ma dovremmo fare dei colloqui con i loro conoscenti gli amici per vedere quali sono i tratti proprio distintivi di queste persone dovremmo guardare la loro storia di vita la loro carriera professionale quindi dovremmo vedere se ci sono dei segnali di mancanza di empatia e di psicopatia quindi credo che sicuramente gli psicologi dovrebbero avere davvero un ruolo che facilitare letture più complesse della realtà che altrimenti rimangono in scappo di appunto banali polarizzazioni stanno arrivando molti ringraziamenti è stato veramente interessante Stilt ti ringraziamo di cuore e magari ci sarà un ulteriore appuntamento in cui poter continuare questa chiacchierata quindi grazie di nuovo Steve grazie a tutti voi e buona serata grazie Steve thanks everybody thank you grazie a tutti 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 grazie a tutti